Un vivace dibattito sull'impatto del PNRR sulle regioni e quello che si è tenuto alla terrazza civita di Roma organizzato da Socialcom. All'evento le regioni e il PNRR sono intervenuti i presidenti Attilio Fontana, Lombardia, Nello Musumeci, Sicilia, Donatella Tesei, Umbria, Nicola Zingaretti, Lazio. A portare il punto di vista del governo è stato Vincenzo Amendola, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega agli affari europei. Sono stati numerosi i temi toccati durante il confronto moderato da Gianmarco Chiocchi. In particolare è emessa la richiesta di un maggior coinvolgimento delle regioni nell'attuazione e nella programmazione del PNRR. Inoltre sono state paventate le difficoltà nel rispetto dei tempi stabiliti, specie dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Anche gli organizzatori dell'evento sono intervenuti. Gli investimenti del PNRR devono essere comunicati in modo corretto e puntuale, affinché i cittadini e tutti gli attori economici possano comprendere gli impatti positivi per le proprie comunità e i territori. Il ruolo delle regioni e degli altri enti territoriali è fondamentale per avvicinare il piano europeo alle esigenze concrete delle persone e delle aziende, ha dichiarato Gianluca Comin, presidente Comin Partners. Luca Ferraino, fondatore di Socialcom, ha detto vedere insieme i presidenti di diverse regioni d'Italia, da nord a sud, e il governo sedersi a un tavolo per discutere e collaborare su un tema fondamentale per il futuro del nostro paese è davvero importante. Per noi è stato un onore organizzare questo momento di importante confronto tra le parti. Grazie a tutti.